L'emergenza freddo anche nel Vicentino continua, il gelo polare, danni a tubature e caldaie. I carabinieri indagano sul giro di stranieri che depradano i contenitori della carta di AIM e molti sarebbero profudi intercettati nei luoghi dove sono ospitati. Ieri le elezioni provinciali che vedevano al voto solo gli amministratori, alle urne l'83%, ma il centro-destra non sfonda a porta a casa solo quattro consiglieri. Ed i torri di Quartesolo, il vincitore del concorso letterario Parole intorno al fuoco, indetto nell'ambito della Dunata degli Alpini, ieri le premiazioni. Con oggi prendevi la nostra nuova rubrica Quattro Zampe, uno spazio dedicato a cani, gatti e a tutti gli animali chiamati che fanno parte della vostra vita. Inviateci i vostri filmati.